Continua a crescere il numero di pesaresi che si rivolgono alla Onlus Gulliver, continua a crescere il numero di cittadini che portano oggetti che non usano più al centro del riuso di Via Toscana, oggetti che hanno una nuova vita, che vengono sistemati, messi in vendita dalla stessa Onlus e crescono anche i proventi, donazioni che si trasformano in altre donazioni. Vi abbiamo raccontato spesso in questi mesi dei doni di giochi per bambini in varie aree verdi della città, ben sette i parchi giochi riqualificati dalle donazioni di Gulliver attraverso il progetto Altro Giro, oggi al centro medicina, fisica, riabilitazione e logopedia di Via Redi Puglia, centro Asur, inizia una nuova fase, quella delle donazioni della Gulliver alla comunità sanitaria. Primo capitolo di donazioni che inizia con 40 felpe donate del valore di 1500 euro a tutto lo staff di riabilitazione di fisioterapico e logopedisti di questa struttura, struttura che ha dunque un nutrito numero di personale, compreso uno staff medico che oggi ha ricevuto questo materiale e ha detto un davvero sentito e sincero grazie alla Onlus. Vogliamo assolutamente ringraziare l'associazione Gulliver per questo dono che è un po' un segno forse di un messaggio positivo che è partito anche un po' dall'esperienza personale di qualcuno presso questa struttura. Quindi questo è quasi un pensare in positivo che arrivi qualcosa di buono anche al paziente, un messaggio di accoglienza, di presa in carico. Quindi li ringraziamo, noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio da un punto di vista umano e professionale. Quindi ringrazio l'associazione per questo gesto che è una grande ricompensa per tutti noi e ringrazio anche gli operatori perché poi sono i fisioterapisti, le os, gli infermieri, le segretarie che comunque ci danno una mano oltre a noi medici a tenere su questa struttura possibilmente nel migliore dei modi. L'applauso del personale sanitario di questo centro Asur è stato accompagnato da un nutrito gruppo di volontari della Onlus Gulliver che aggiungono questo progetto di donazione alle strutture sanitarie ai tanti altri che in questi anni ha messo in campo la Onlus. Ogni giorno ci impegniamo per cercare di mandare avanti tanti progetti perché poi le persone che hanno bisogno sono tante. Qui alla Gulliver si diventa parte di una grande famiglia e si cerca insomma di fare sempre felice qualcuno. Ed è bello sapere che il tuo contributo qui è importante e ha un valore. Quindi dai, la Gulliver cerca sempre di fare il meglio per aiutare gli altri. C'è una comunità che dona e poi c'è un contraccambiare della Gulliver, c'è questo scambio, è proprio la filosofia di questo centro del riuso. Arrivano donazioni al centro, arrivano donazioni dalla Gulliver alla comunità, come in questo caso comunità sanitaria. È vero, è tutto vero. Io associerei proprio la parola Gulliver nella G di gioia perché è quello che provo lavorando per Gulliver che per me comunque non è un lavoro ma è una grande opportunità che mi è stata regalata. Quindi io credo che quando si associa gioia, voglia di dare, voglia di fare un sorriso, il gioco è fatto. Non è più un lavoro ma diventa veramente non il gesto meccanico ma qualche cosa per dare agli altri. Un sorriso in più e soprattutto anche tante volte un sospiro di sollievo in più per le persone che hanno bisogno. Ecco io credo che sia questo il messaggio, fare le cose con gioia, con una sorta di sentimento col cuore. Quando le cose si fanno col cuore tutto è fatto, se no diventa tutto meccanico. E quindi l'invito è aprire le porte a tanti altri volontari e volontari che aderiscono a questa sensibilità molto particolare. Assolutamente sì, è un invito perché io lo sto provando sulla mia pelle. Io sono qui da due anni, sono stata accolta molto bene da Gulliver con sorrisi, gentilezza e molta molta comprensione. Quindi come l'ho fatto io e sento la gioia dentro, lo possono fare tutti, sono sicurissima. Un volontariato che è sempre più senza confini, tante anche i ragazzi e le ragazze straniere che aderiscono alla Onlus Gulliver. Le ragazze e me lavoriamo nella Gulliver e ci piace molto perché pensiamo che è un progetto bellissimo per le famiglie con difficoltà. Siamo encantati.